Questa dovrebbe essere la nostra realtà? No, non è questa la nostra campagna, non è quello quello che vogliamo. Noi oggi ci siamo recati qui in segno di protesta, di manifestazione, saremo cinque ore a partire da ora perché il 2 giugno, cioè il giorno della festa della Repubblica, vogliamo spenderlo così. Aspettiamo una risposta da chi può e da chi deve fare qualcosa. Noi avremmo voluto anche pulire, mettere mano, ma la pericolosità dei rifiuti non ce l'ha permesso. Perciò noi che veniamo sempre classificati, noi ragazzi come coloro i quali vanno alla ricerca di una realtà migliore, oggi ci raccontiamo da soli e vogliamo rendere questa realtà migliore e non ci stanchiamo di farlo. Perciò a partire da ora saremo cinque ore e aspettiamo una risposta da chi può fare qualcosa. Noi giovani siamo stanchi, non ce la facciamo più perché non è possibile che la domenica con il nonno o con la nonna quando venga a fare una gita in campagna debba guardare questo porcine. Non ce la facciamo più per causa della gente incivile, per causa della gente incompetente che non riesce a capire, non riesce ad amare la propria terra, la disprezza. Ah basta, un altro raggiù. Non è certamente questo il futuro che ci ospitiamo noi. Non vogliamo lasciare nemmeno spazio all'ecomafia, per questo noi oggi siamo qui con un doppio ruolo e tutti insieme cerchiamo di fare i tutori della nostra città. Esatto, noi siamo i tutori del nostro territorio.